Che cosa vuoi giocare? Uffa! Uffa, tu non mi aiuti mai a giocare. Puoi giocare alle principesse? Potremmo giocare alle principesse. Io sono la principessa e tu sei la mia figlia. Cosa? Non ti va di giocare alle principesse? Sei stanca? Ma che noia però! Cioè non mi dai idee, dici pure che sei stanca, uffa! Julian, cosa fai? Sto giocando col tablet, una nuova puntata di Minecraft. Senti, andiamo a parco giochi, io mi sto annoiando. Parco giochi? Va bene, si può fare. Hai detto sì? Sì, ho detto che si può fare. Potremmo andare, ora dobbiamo chiedere alla mamma però. Sì, 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 andiamo a chiedere alla mamma, dai, dai, dai. Mamma, mamma, mamma. Non mi spaventate, mamma mia. Cosa c'è? Scusa, mamma. Senti, ti volevamo chiedere, possiamo andare al parco giochi? Sì, va bene per me, va bene. L'importante è che siate a casa per le sei, ok? Che poi ceniamo. Yeah, andiamo! Aspettate, ricordatevi di portarvi almeno qualcosa da bere e da mangiare, eh? Mi raccomando, Julian, ci siamo capiti. Sì, mamma, ciao, ciao. Eccoci qua al parco giochi, Emma. Come desideravi. Non sono il fratello migliore del mondo? Sì, però adesso che gioco facciamo? Ma possiamo guardarci un attimo intorno e... Ehi, Julian, guarda! Che cosa? Ci sono delle uova! Delle uova? Hai ragione! Chissà che uova sono! Magari sono delle uova... Magari sono delle uova degli uccellini qua sopra l'albero! Sì, sai, vengono spesso. Potrebbe essere, però... Mi sembrano troppo grandi queste uova. Julian, le prendiamo? Mi hai letto nel pensiero, sorellina. Dai, mettiamoli nel tuo zaino e portiamoli a casa. Sì, potremmo accudirle e poi vedere chi nasce. Chi non sa, magari una sorpresa. Sì, però forse non si può fare. Ma dai, Julian! Dai, ma io voglio giocare un po'. Siamo venuti fin qua. Ma sì, ma Julian, dai! Portiamoli a casa! Sarà divertente! Va bene, ok, mi hai convinto. Vieni qua, le dobbiamo mettere nel tuo zaino. Va bene, ok. Sono dentro? Eh? Tutte dentro? Ok, adesso che sono tutte dentro... Dobbiamo correre a casa per accudirle. Ehi, 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 ehi! E ma dove vai? No, siamo venuti al parco giochi! E poi non possiamo andare a casa subito. La mamma dirà... Ma non siete andati al parco giochi? Non avete giocato? Deve essere il nostro segreto. La mamma non lo deve sapere di queste uova, ok? Mmm, va bene. Dai, forse poi giochiamo un po'. È troppo presto per tornare a casa. Va bene, ok, giochiamo un po'. Dai, andiamo su quel gioco là, ti piace molto? Mmm, Julian, è così noioso. Noioso? Ma mi hai chiesto di venire al parco giochi. Ti ho portato e adesso dici che sei annoiata? Sì, perché sto pensando solo alle uova. Forza, dai, andiamo a casa adesso. Mmm? Per favore. Eh, va bene, va bene. Adesso andiamo a casa. Mi raccomando, non una parola con la mamma e il papà, eh. È il nostro segreto. Va bene. Eccoci a casa, finalmente, sei contenta? Sì! Ora, come facciamo secondo te? Mmm? Ah, sì! Ho visto un video la settimana scorsa di come acudire delle uova. Ah, sì? E che cosa facevano? Ah, adesso ti faccio vedere. Devo andare a prendere una lampada. Una lampada? Sì, sì, una lampada. Mmm? Per cosa? Eh, vedrai, vedrai. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, eccola. Sì, perché le uova, devi sapere, che devono essere scaldate per poter, per poter crescere. Siccome noi non abbiamo la mamma, le mettiamo sotto la luce artificiale. Farà un po' di caldo e loro cresceranno. Ah, sì, chissà che uccellini verranno fuori. Ma magari non sono uccellini, eh, ma magari, magari possono essere dei dinosauri. Penso, dei piccoli dinosauri in casa nostra. Oh, no, io ho paura dei dinosauri. Oppure dei coccodrillini. No, 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 io ho paura sia dei coccodrillini che dei dinosauri. Non lo voglio più fare questa cosa. Portiamole via. No, no, no. Adesso che ci sono, le teniamo.